ciao raga io sono chiamatemi guerriera e questo è il mio canale ma che stai dicendo ma che stai dicendo io sono chiamatemi guerriera e questo il mio canale tu pensa per il tuo su nomi si appropriano dei canali degli altri oggi facciamo un bel video tag sei contenta si contenta sono poche le domande non sono come l'altra volta e sono sempre dell'angolo di lady b ho appunto un video tag e io mi sono auto taggata iniziamo con le domande allora dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse chiuse anche io chiuse ma che esce fuori qualcosa cosa deve uscire qualche fantasma anche io chiuse finestre chiuse porte tutto chiuso chiuso tutto buio no no io no tutto buio allora poi rubi gli shampoo e i saponi dell'hotel no no ma sono lì quale gli shampoo i saponi dell'hotel quelli piccinini che ti mettono e che me ne faccio a me non piace i ricordi ma che ricordi vabbè comunque io sì anche le noccioline lo spumantino allora dormi dentro o fuori dalle lenzuola se ho caldo dormo fuori se ho freddo dormo dentro io dormo sempre dentro le lenzuola anche le coperte anche io soffro di pressione alta ogni tanto mi viene allora mi scopro tutta ecco perché sei così sclerata hai rubato un cartello stradale no però io neanche però mi ero fissata che dovevo rubare un cartello dello stop quando ero ragazzina perché tanto i buchi il muro li facevo già per cui ci voleva la segnaletica no allora preferisci essere attaccato da un orso o da uno sciame d'api io preferirei vivere tranquilla mi vuoi così male ma sono queste le domande dalle api dalle api e chissà mi metto d'accordo poi mi danno anche un po di miele no io preferirei essere attaccata da un orso perché allora se sei in un punto che arrivano sciame d'api e non c'è un fiume puoi salvare mentre un orso e tu ti metti fermo immobile e magari non ti risparmia poi al massimo di una manata tata testende cosa che stai a dico nota dalla barata me stente dai vediamo questa hai mai fatto la pipì nel bosco non solo quella o non non capire male nel bosco sono andata ho fatto la pipì ho raccolto le castagne ho raccolto i funghi tante tante cose sì cosa avevi capito e vabbò e la cacca le fa no quella no io la pipì non mi ricordo l'ho fatta la pipì nel bosco e me lo dice a me mi ricordo da adulta no da bambina ma sì sì la cacca non l'ho fatta non l'ho fatta ti sei mai messa a ballare anche se non c'era la musica sì anch'io anch'io vero sì poi canticchio io ogni tanto ma lo faccio anche tuttora dove nasconderesti un tesoro averlo vabbè io lo nascondo talmente bene che poi non lo trovo comunque non ho tesori per cui vado tranquilla sono passati già i ladri e il cane gli ha aperto la porta poseresti nuda per una rivista no alla mia età no io non ho mai canti in macchina sì io anche solo che poi vabbè mio marito spegne la radimo non so se perché non mi vuole sentire canti sotto la doccia a squarciagola anche se sono stonata anch'io balli in macchina no io sì intanto poi questa qui la rispondiamo assieme te o caffè uno due tre te come te caffè caffè forever non sei da te mamma mia poi l'ultima l'ultima sai arricciare la lingua ma stai scherzando come cavolo si fa che ne so io no non l'ho mai arricciata io di solito faccio facciamo la linguaccia uno due tre ok raga spero che questo video tag vi sia piaciuto io con la mia mamma pazzarella ci siamo divertiti dai un saluto a tutti da chiamatemi guerriera mi raccomando iscrivetevi al canale mettete i like condividete e poi state sempre attivi attivando la campanellina alla prossima al prossimo video dica ciao a tutti ciao belli